E' morto alle 4 di stamani il cardinale Silvano Piovanelli, arcivescovo di Firenze, dal 1983 al 2001. A dare l'annuncio che Piovanelli ha concluso il suo cammino su questa terra per tornare alla casa del padre, è l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. Piovanelli, che aveva 92 anni, si trovava da qualche mese al convitto ecclesiastico dell'Arcidiocesi, dove è stato assistito nella fase finale della sua malattia. La camera ardente sarà allestita in arcivescovado, verrà seppellito in Duomo. Nato a Ronta, nel Mugello, in provincia di Firenze, il 21 febbraio 1924 da una famiglia umile, a 11 anni decise di andare a Firenze in seminario. Qui ha studiato dal 1935 al 1947, anno in cui è stato ordinato sacerdote. Compagno di studi in teologia dal 1943 al 1947 di Piovanelli fu, tra gli altri, Don Lorenzo Milani, che fu ordinato sacerdote lo stesso giorno. Il 21 febbraio 2014, al compimento dei 90 anni, Piovanelli si trovava a Roma, mentre vi si svolgeva l'assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, e partecipò alla Santa Messa, Santa Marta, con Papa Francesco che lo ringraziò per il suo lavoro, la sua testimonianza e la sua bontà. Negli ultimi giorni, avvertito delle sue precarie condizioni di salute, Papa Francesco gli ha telefonato nel convitto ecclesiastico, dove si trovava per essere assistito. La sua ultima uscita pubblica è stata a Firenze il 26 maggio 2016, alla processione del Corpus Domini nelle vie del centro, a cui partecipò sulla sedia a rotelle. Tante le manifestazioni di cordoglio, a cominciare dal Premier Matteo Renzi, che lo definisce un punto di riferimento nella fede e per la vita della città, di cui è stato a lungo arcivescovo.